Ricordati di cliccare su mi piace iscriviti al canale e attiva la campanella. Una ricerca angosciante termina con la macabra scoperta di una coppia bresciana, che aveva deliberatamente fatto perdere le proprie tracce, in questi giorni, il paese è rimasto con il fiato sospeso mentre una coppia nel nord Italia era oggetto di interminabili ricerche. Dopo aver volontariamente allontanato, la coppia è stata trovata senza vita nel garage della propria abitazione, sin da subito, un'imponente macchina delle ricerche ha tentato di ripercorrere gli ultimi spostamenti della coppia, ma il mistero si è infittito fino alla terribile scoperta. Un biglietto rinvenuto dalla coppia ha svelato le tragiche ragioni del gesto, il padre della 39enne, allarmato dalla sua assenza nel prendere i figli dall'ex marito, ha segnalato la scomparsa. La coppia, entrambi afflitti da disturbi psicologici, è stata trovata abbracciata all'interno della macchina nel garage. L'orrore è emerso dopo l'allarme dei vicini riguardo a un odore sospetto proveniente dal garage, le indagini continuano per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica fine, gettando luce su una storia segnata da relazioni complesse e sofferenza psicologica. Resta aggiornato per ulteriori sviluppi sulla vicenda. Continua a seguire per gli aggiornamenti sulle storie dietro le luci dei riflettori.